Questa giornata che è stata organizzata dalla CGL della Federazione Provinciale ha come tema il ciclo dell'acqua. È un aspetto importante che riguarda uno dei beni essenziali della vita dell'uomo. Ed è importante perché questa risorsa naturale sta diminuendo anche a seguito dei cambiamenti climatici. E quindi convegni come questo di oggi permettono di chiarire le cause e soprattutto quali sono le soluzioni per poter far fronte a questa riduzione di questo bene così prezioso. L'Università ha sostenuto questa iniziativa perché pensiamo che solo tramite la diffusione della conoscenza dei problemi sia possibile individuare quali siano le migliori politiche per portare avanti e per aumentare il benessere dei territori e delle comunità. Lo scopo di questo incontro che abbiamo organizzato insieme all'Università d'Urbino è quello di affrontare il tema relativo appunto al ciclo dell'acqua, al ciclo dei rifiuti in un'ottica di carattere provinciale e non solo, anche partendo dalla condizione di carattere più generale e nazionale. Il tema dello sviluppo sostenibile, il tema della tutela ambientale ma allo stesso tempo il tema anche di come risolviamo tutto quello che sono le problematiche legate anche ai bisogni primari dei cittadini che sono ovviamente l'approvvigionamento idrico da una parte ma anche la gestione dei rifiuti che produciamo in quanto esseri umani e anche in quanto soggetti di produzione dal punto di vista della produzione del mondo del lavoro vanno incidere e vanno impattare rispetto alla vita quotidiana ma anche di prospettiva rispetto al fatto che di queste cose occorre occuparsene. In che senso occorre occuparsene? Nel senso che viviamo una fase in cui nella nostra regione e nella nostra provincia non abbiamo impiantistica sufficiente e non mi riferisco soltanto a una parte di questi impianti, mi riferisco in generale agli impianti di riciclo e anche di riutilizzo delle risorse idriche piuttosto che dell'igiene ambientale per poter gestire gli impatti futuri che è la nostra vita e che tutto quello che attiene appunto al ciclo dell'acqua e dei rifiuti vanno a metterci nelle condizioni di dover in qualche modo far fronte. Ovviamente per arrivare a quell'economia circolare che ci permette di ridurre al massimo l'impatto dei rifiuti non riciclabili in un'ottica appunto di gestione moderna di questi tipi di problemi.